Troppe volte quest'anno abbiamo detto che la gara successiva sarebbe stata la gara più importante dell'anno. Adesso siamo giunti veramente all'ultima di campionato ed è veramente la gara più importante, perché speriamo tutti e vogliamo tutti che alla fine della partita di sabato il nostro obiettivo sia nelle nostre mani. Nonostante la gara scorsa contro Scafati non è bastata al raggiungimento del nostro obiettivo, stiamo lavorando intensamente e duramente come abbiamo fatto la settimana scorsa per arrivare a sabato nelle migliori condizioni fisiche e mentali e mettere in campo l'intensità e la grande voglia di vincere che abbiamo avuto appunto domenica scorsa. Sarà sicuramente riuscire a rimettere in campo l'aggressività e l'intensità che abbiamo messo nella partita interna contro Scafati. Siamo una squadra che ha dimostrato che nel momento difficile, nel momento forse più difficile del campionato è riuscita a tirare fuori una partita, forse la partita più bella dell'anno e questo non è bastato a raggiungere il nostro obiettivo e quindi vogliamo ripeterci e vogliamo andare a Casale Monferrato per fare una partita di intensità, di voglia, di grinta e riuscire a portare a casa il nostro obiettivo. Sicuramente l'intensità che siamo riusciti a mettere in difesa perché è una gara che abbiamo vinto concedendo loro solo 53 punti. Allo stesso tempo dobbiamo cercare di migliorare assolutamente le nostre percentuali in attacco perché non possiamo andare a Casale sperando che loro ripetano una partita così debole in attacco come hanno fatto all'andata. Quindi migliorare la circolazione di palla, distribuire al massimo i nostri possessi in attacco e migliorare le nostre percentuali.